Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno di Analisi Tecnica anche al 2 giugno 349-8275-983 per intervenire, sms, whatsapp, telegram e signal e chi ci accompagnerà quest'oggi lungo una puntata extra large, oggi non abbiamo line ma andiamo diretti fino alle 12.45 con le vostre domande, è colui che verrebbe incoronato Presidente della Repubblica da molti trade, Massimo Intropido con noi, buongiorno Massimo, buona festa della Repubblica, che faccia hai Massimo, che succede? Grazie, ma guarda tra la svolta biologica di Siat, questa apertura oggi è veramente la giornata dei fuochi d'artificio, quindi buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica a tutti che credo che sia una festa che veramente va va sentita in maniera particolare e dopodiché… La festa della svolta, speriamo che lo sia, guarda veramente. A proposito della… Adesso vabbè, loro Siat fanno questa ricerca stimolare, è fantastica questa ricerca. Però Emerick, se ti ricorderai, l'avrai letto anche tu, che in passato avevano fatto invece l'esame delle urine ai trader in alcune banche perché c'era sospetto che usassero sostanze stimolanti, diciamo così, in eccesso e poi facevano disastri, quindi diciamo che il tema… Quando era finita facevano uso di sostanze, ma soprattutto per lavorare 18 ore come fanno in America alcune… Esatto, non è tanto un problema di cosa uno fa la sera, ma è appunto il problema di tenere certi ritmi e certi stress, quindi in passato ci sono stati comunque, perlomeno così diceva la voce. Detto questo, qui è partito il risico, opa, go go, e questo Emerick conferma quello che noi diciamo, ma da prima del Covid, cioè che il mercato italiano nasconde ancora tanto valore. E tra l'altro, ascoltando e ripensando le cose che sono state dette dal governatore di Banca Italia a Visco lunedì al posto della nostra trasmissione, ma è stato veramente un appuntamento molto interessante, l'Italia è un paese che ha risorse abbondanti che non vengono utilizzate. Mi riferisco anche a quella statistica impressionante del risparmio italiano che durante il Covid è salito di 80 miliardi di euro, quindi altro che debito pubblico insostenibile, non solo è sostenibile, ma siamo noi che possiamo prestare agli altri. Il problema è che troppo risparmio italiano viene investito nei titoli di Stato stranieri che rendono nulla, che fanno anche danni, quindi ci vorrebbe una politica molto importante sul nostro debito pubblico, oltre alla riforma fiscale ci vorrebbe anche una riforma, bisognerebbe cominciare a emettere i titoli perpetui, che piacerebbero tantissimo alle assicurazioni, perché così avrebbero meno rinnovi da fare per fare le polizze, bisognerebbe eliminare completamente le ritenute sui titoli di Stato italiani, tanto sono partite di giro e andrebbero invece penalizzati i titoli di Stato stranieri, perché è assurdo che gli investitori italiani comprino il Bund. Comunque sì, a Italia paese ricco, quindi anche tutto... A tassi negativi, tra l'altro. A tassi negativi. Beh, oddio, uno guadagna sul prezzo, perché se noi dobbiamo fare, si può fare del bel trading sul Bund che oltretutto è molto più liquido dei BTP, bisogna dire le cose come stanno, altrimenti esprimiamo un'opinione incompleta. Detto questo però, è un dato importante quello di lunedì, quindi tanta liquidità da investire, il risparmio invece che distrutto è aumentato. Tanto valore nascosto a piazza affari, probabilmente altre OPA in arrivo e quindi ieri siamo tornati per un po', siamo tornati ai livelli preleman, ma penso che il nostro mercato, con tutto quello che gli gira attorno, può essere tra i più performanti in Europa, peraltro assieme a quello inglese. Anche qui tutti i catastrofisti della Brexit hanno preso un abbaglio incredibile. Invece, nonostante Biden continui ad aumentare di qualche migliaio di miliardi la spesa pubblica, peraltro quell'aumento che è stato annunciato nel weekend riguarda comunque il fiscal year 2022, quindi si parla di misure che arriveranno per lo più l'anno prossimo e neanche tutte l'anno prossimo. Invece vediamo un'America che effettivamente più di così non riesce a salire, tra l'altro avremo poi venerdì dati sul lavoro, anche lì potrebbero arrivare cose un po' strane, gli indici di fiducia in America vanno molto bene, ma il mercato fa fatica perché c'è meno valore nascosto, mentre invece c'è tantissimo valore nascosto a piazza affari. Ieri c'è stato il campanello d'allarme sull'inflazione europea, ma non credo che nella riunione importantissima di BCE del 10 giugno verrà cambiata la politica monetaria, anzi penso che verrà affermato che se serve il quantitative easing addirittura aumenterà. Non penso che aumenterà, perché comunque nonostante la debolezza dell'economia tedesca, Germania ha gestito malissimo la seconda ondata di Covid, perlomeno non l'ha gestita benissimo e quindi questo rallenta un po' la ripresa in Europa. Tra l'altro Emery che guardavo la ripresa dei paesi emergenti e i paesi emergenti europei sono penalizzati proprio dalla Stasi, relativa Stasi che c'è in Francia e in Germania. Comunque sia, come dicevo, inflazione che non dovrebbe far cambiare la politica monetaria, piano Biden che è un piano che riguarda per lo più l'anno prossimo e petrolio che vola letteralmente, già abbiamo visto i primi aumenti, tutti penso siamo andati a far benzina almeno una volta nelle ultime settimane, abbiamo già visto gli aumenti che in alcuni casi erano iniziati già ancora prima, quindi sempre inflazione, però i mercati obbligazionari mi sembrano abbastanza in stallo. Tra l'altro volevo far notare che quello strano andamento dello spread, perché lo spread fondamentalmente sono due settimane che scende e a me sembra strano che fosse legato solo all'inflazione, secondo me c'è anche un qualche cosa legato alla politica italiana, cioè chi ha seguito la politica, se ne parlava ieri sera nei Torcio in maniera abbastanza esplicita, forse l'ipotesi di Draghi al Quirinale è un'ipotesi che si raffredda, perché addirittura si starebbero, secondo le indiscrezioni della politica, preparando gli accordi per la prossima legislatura, perché questa prima finisce meglio con questo Parlamento rissoso, uno schieramento di partiti anche trasversali, ieri sera l'han definito il centrone, tanto per inventarcile, per rimettere Mario Draghi a Palazzo Chigi per 5 anni su una legislatura nuova che di fatto può partire attorno a lui. Il centrone di Toti, Brugnano, quello lì stai dicendo? Almeno una parte della Lega che potrebbe diventare maggioritaria, poi Renzi ci sta, perché quando Renzi c'è da fare gli accordi, c'è sempre, e poi attenzione al PD, perché andando sempre più verso sinistra non ottiene niente, forse anche lì una svolta un po' più centrista potrebbe esserci. Allora Mario Draghi con 5 anni davanti per gestire le spese del recovery piacerebbe anche in Europa, e secondo me una parte di tutto questo discorso si è riflessa nello spread, che vediamo che sono due settimane che scende, nonostante il mercato americano, parlo di rendimenti, un po' scende, un po' sale, e anche il Bund ha perso, poi ha recuperato, però è fermo. Invece lo spread ha voglia di continuare a scendere, quindi credo che sia in parte legato appunto a quest'ipotesi di un Mario Draghi non più al Quirinale, ma un Mario Draghi che per molti anni è Presidente del Consiglio. Lascio ad ogni telespettatore ovviamente la propria opinione, ma penso che sarebbe una cosa che a molti italiani piacerebbe, perché come ha salvato l'Euro potrebbe rimettere un po' in carreggiata il nostro Paese, e oltretutto ci sarebbero anche le risorse, perché ho appena detto, con i dati di Banca Italia, interessantissimo il discorso di lunedì, l'Italia è, i conti bancari e i dossi titoli sono pieni di denaro da spendere e ne vanno spesi di più in Italia e un po' meno su certe imprese bollite tedesche e certe obbligazioni europee che lasciano il tempo che trovano. E allora, caro Massimo Introbido, se questo è quanto per il punto di giornata, io partirei per dedicarci ai nostri telespettatori. Andiamo? Partiamo, partiamo. Ciao Maria Megra, grazie per l'aiuto che date a noi piccoli investitori, ho Enel in carico a 7,26 e intesa 1,92. I miei obiettivi sono Enel a 9 e intesa 2,50. Possono arrivarci se sì, in che tempi? Grazie ancora a Daniele da Bologna. Allora, se sì, in che tempi rischiamo di virare nella magia? Allora, intesa... Ma no, Emeriche, guarda bene i livelli di intesa, in che tempi? Anche oggi, anche domani, siamo a 2,47. Ah beh, giusto, è vero. 2,46,95, 0,8% di euro. Tu avevi in mente Enel su cui manca un euro e che peraltro continua a scendere, ma intesa può arrivarci addirittura oggi. Direi che i 2,50, partiamo da intesa, direi che i 2,50 sono un livello, sono un livello... Ma non è fatta per i 2,50 su intesa. Adesso che te l'ho detto sono sventiti. Più che altro perché c'è da chiudere il gap. I telespettatori sanno che io uso modelli di analisi tecnica abbastanza lenti e quindi per uno che utilizza modelli di analisi tecnica abbastanza lenti. Quando manca l'1% al livello vuol dire che siamo entrati nella periferia bassa di quel livello, no? Quindi che virtualmente è raggiunto. Il titolo a questi prezzi vale... Ah no, aspettaci, mancano i dati, non mi si sono caricati i dati sulle stime degli analisti. Comunque credo che valga intorno agli 11-12 volte gli utili attesi. 14,5. 14. No, questo è lo storico, è l'atteso. Ah, l'atteso e il foro a pieno ce l'ho. Eh no, mi spiace. Ok. Comunque sia, mi pare che sia intorno ai 12. In ogni caso intesa produce utili in maniera incredibile e ritornerà a pagare dei dividendi molto interessanti. Quindi se mai, lo dico a tutti i telespettatori che hanno il titolo intesa, quando lo vedete nel dossier titoli e magari vedete una performance che ogni tanto un po' si blocca, tenete anche conto dello stacco dei dividendi, che è un po' lo stesso discorso di Azimut, ma stiamo su intesa. Certi titoli che sembra che si muovano poco è perché una parte del valore lo scaricano sotto forma di dividendo. Diamo un livello di allerta per intesa, ma direi che il solito supporto a 2,33, 2,35. Per quanto riguarda invece Enel, ma Enel diciamo c'è la questione open fiber che un giorno si apre, un giorno si chiude, anche se sembra che ultimamente le cose migliorino. Adesso è proprio sul supporto di 8 euro. È un titolo su cui bisogna aver pazienza, Enel. Penso che tornerà a 9 euro. In che tempi? Quei tempi sono più lunghi, potrebbe volerci qualche mese, proprio per una debolezza intrinseca sua, però non mi staccherei da Enel in portafoglio, perché o uno fa trading e allora magari chiude Enel per fare qualcos'altro, altrimenti come investimento non vale la pena di privarsi di Enel. Guarda per esempio Eni, che era un altro titolo super fermo, guarda cosa è successo in settimana sul petrolio e vedi che all'improvviso i ci sono certe resurrezioni a piazza affari, magari se lo possiamo fare… Però Enel siamo lì, scusa, poi arriviamo su quello che vuoi fare, però Enel siamo proprio sul minimo di oggi, abbiamo preso un supporto di modi. Sì, ma il trend è ribassista, allora il trend di medio parte da inizio anno ed è ribassista, anche se però dai minimi di marzo puoi comunque tracciare una trendline rialzista, quindi di fatto è un triangolo di medio periodo, però con la ripresa dell'attività riprendono anche i consumi elettrici, quindi poi c'è tutto il problema della mobilità automobilistica, si va molto piano, ma è un fattore che diventerà sempre più importante in futuro, i prezzi di borsa scontano anche gli scenari futuri. Quindi non mi disfarei di Enel, pazienza se per un po' non si muove. Un portafoglio deve anche avere una sua logica di diversificazione e di bilanciamento dei vari settori, certi titoli corrono di più, certi titoli pagano dei dividendi più alti. Guarda, c'era un altro titolo, però adesso te lo accenno solo, perché se no andiamo veramente troppo fuori tema. C'era un altro titolo che pareva che non si muovesse, Interpump, guarda dove è adesso, ha raddoppiato il valore credo in un anno, quindi bisogna avere pazienza su certi titoli, perché se la società sottostante è forte, dico una cosa banale, non tutti i giorni, non tutti i mesi possono salire tutti i titoli, è una cosa banale, ma ogni tanto tendiamo un po' a dimenticarcene. Allora, caro Intropido, devo andare in pausa pubblicità e rimani lì un paio di minuti e poi torniamo subito a rispondere ai nostri telespettatori. Pausa e poi torniamo. 3, 4, 9, 8, 2, 7, 5, 9, 8, 3, anche alla festa della Repubblica del 2 giugno, siamo qua per accompagnarvi nei mercati finanziari insieme al nostro Massimo Intropido, a cui giro immediatamente un altro Whatsapp. Ci sei Massimo che ti sento? Sono qua, sono qua. Buongiorno Remake, mi servirebbe un vostro parere, ovvero un'analisi e punto di ingresso su IREN e OVS, grazie e complimenti per la trasmissione. Allora, cominciamo con IREN o OVS, decidi tu. Cominciamo con IREN sicuramente. Le utility sono un settore un po' strano, poi c'è appena stato il cambio di amministratore delegato, onestamente non ho capito il fatto che il mercato l'abbia presa male. IREN in effetti ha rotto i supporti di una decina di sedute fa, però non sembra volersene allontanare troppo. I supporti erano 2,56, quindi lo diamo come primo obiettivo da recuperare, però stiamo parlando di 3 centesimi, quindi il trend rialzista sia di… magari di breve si è chiuso, ma di medio periodo è ampiamente aperto e si chiuderebbe sotto 2,40 il trend rialzista di medio periodo, cioè quello per gli investimenti. Quindi direi che forse può essere per chi ha pazienza un orizzonte temporale un po' lungo, un momento di ingresso questo, in accumulo, perché comunque stiamo parlando di una multi utility che in una ripresa del paese non può non avere un ruolo e non può non trarre beneficio da un miglioramento congiunturale. Ci sarà poi la resistenza 2,65, questi titoli molto strani, non sono titoli su cui il mercato si focalizza tutti i giorni, quindi bisogna avere un pochino di pazienza. Per quanto riguarda la grande distribuzione e tra l'altro a proposito della grande distribuzione vedremo cosa succederà e Price, perché ieri c'è stato quel balzo o no sulla notizia di un possibile player che potrebbe essere interessato. Comunque sia andando su OVS, oggi non lo vediamo particolarmente tonico, però anche qui è un settore, anche se questa è una grande distribuzione un po' particolare, è un settore che sta anche in fase di ripresa, qui c'è un trend a gradini, quindi esattamente come dicevo prima, titolo che interessa al mercato certi giorni sì e molti giorni no, però anche quando non interessa al mercato non perde terreno, quindi 1,70 è un supporto, supporto vero. Adesso c'è questo 1,84 che è la periferia alta della candela di settimana scorsa, della candela del 28, ma direi che può essere un obiettivo così di breve periodo. Il trend di medio è piuttosto solido, quindi è un titolo da comprare sulla debolezza questo assolutamente, perché lo vedete che ha delle fasi di pausa e di ripensamento. Allora, Emeric, ma lei lavora sempre, neanche una fuga in giornata con la famiglia in Liguria, saluti da Livia da Varazze, no, 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 poi c'ho i nanetti malaticci, quindi me ne sono rimasto qua. Poi col mercato aperto, Massimo, andare in vacanza, noi gente di mercato viene difficile, vedi tu sei anche in ufficio al 2 di giugno, sarà contenta tua moglie quanto e contenta la mia, immagino. Eh, ma non sono contento io perché poi devo recuperare l'arretrato dei lavori domestici, quindi sono tutte, sai, la nostra passione prima o poi si paga, perciò... Sì, 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 tra l'altro ho l'ufficio del personale qua che devo prendere vacanze per forza, quindi vediamo. Va bene, dai, andiamo avanti, non divaghiamo. Allora, buongiorno Riccardo, ma perché non applichiamo il modello matematico e quindi usciamo dall'emotività comportamentale, Riccardo, grazie, beh, è quello che fanno gli operatori che decidono di virare verso i trading system, vogliono togliere l'aspetto emotivo e comportamentale. Però, ecco, anche lì, attenzione però, perché comunque i sistemi informatici, cioè c'è sempre l'uomo che li scrive e l'uomo trasferisce in parte le condizioni emotive anche nei codici dei trading system, tipo ad esempio mi viene in mente quando arrivano i flash trading, lì c'è un po' del comportamento dell'uomo anche nei trading system, Massimo, o no? Ma innanzitutto bisogna vedere cosa capisce l'uomo del mercato quando programma i trading system, perché alcuni indicatori che vengono utilizzati per il trading system sono indicatori che arrivano in ritardo perché sono basati su delle medie, quindi già dipende che tipo di modello matematico utilizzi. Io personalmente ho eliminato quasi del tutto i modelli di analisi tecnica classica, utilizzo dei modelli matematici che vedono il mercato da un punto di vista completamente diverso e personalmente utilizzo i trading system non per il trading ma come segnali di allerta, quindi praticamente li utilizzo come sistemi di warning. È ovvio che mi baso soprattutto sull'analisi fondamentale, ma cercando naturalmente non si può, anche chi utilizza l'analisi fondamentale non può trascurare l'analisi tecnica, perché l'analisi tecnica ti fa capire magari quando puoi pagare il titolo che ti interessa un 4-5% meno. Unendo analisi fondamentale e analisi tecnica, tranne rare eccezioni, sarebbe meglio fare dei trading system che comprano contro tendenza, che di per sé è pericolosissimo, perché se ti parte un trend forte e tu lo contrasti e ti puoi fare molto male. Questa cosa si fa solo previo studio della qualità della società, dello scenario macroeconomico, dopodiché a quel punto puoi comprare nei momenti di occasione più favorevole. Tra l'altro su internet sta aumentando anche così l'offerta, ci sono tanti video di personaggi che non conosco e che non sapevo facessero finanza e a volte vengono proposti dei trading system, delle cose, ma onestamente sono tutte cose che gli americani già presentavano ancora negli anni 80, quando loro avevano i personal computer e noi no. È tutta carne trita e ritrita. Guarda generali su Cattolica, esiste un trading system che poteva prevedere un'OPA? No. Ora, non si vive di sola OPA, perché ci sono anche aziende che danno buone notizie meno clamorose in maniera più regolare. Dopodiché, quando un'azienda ti dice che ha una politica di acquisizioni, come aveva detto Generali, cosa fai? Come fai a programmare un trading system che guarda le acquisizioni? Quindi, sai dove possono andare bene i trading system? Possono andare bene e vengono utilizzati dalle banche per fare anche il risk management, perché questo sì, calcolare la volatilità, calcolare il famoso 6 sigma, cioè il rischio massimo e tutta una serie di cose. Però vedi, anche lì, quando si parla di rischio, e poi chiudo questo discorso, perché poi chi non è interessato ai trading system magari questi discorsi non gli interessano in maniera particolare, già l'equivoco è nel concetto di rischio, perché il rischio si prende sempre il rischio medio, invece quello che fa collassare è il rischio massimo. Tu non devi guardare la giornata molto volatile, ma tutto sommato regolare. Sono le notizie improvvise, tipo quel brutto profit warning lanciato da SAP su se stessa, oppure notizie di commesse che saltano. Sono quelle le notizie che ti fanno sballare. Quindi, onestamente il trading system è un qualche cosa, io personalmente li utilizzo a modo mio, in generale è un tipo di mercato che offre sempre le stesse cose trite e ritrite e anche chi li utilizza ne utilizza più di uno, perché uno solo ti può ingannare. Dopodiché se tu compri un buon mercato quando è basso ci metti più tempo, ma alla fine fai gli stessi risultati. Buongiorno, vorrei entrare sulla Banca Desio, vorrei sapere dal tuo ospite se entrare sulle risparmio le ordinarie. Giuseppe, buona giornata. Andiamo su Banca Desio, Banca Desio e Brianza, vediamo un po', risparmio e ordinarie, vediamo quanto fanno entrambi. Le risparmio perdono il 2,05, stavamo vedere se hanno battuto prezzo oggi, sì, 2,86, mentre Desio e Brianza le ordinarie sono in rialzo dello 0,85, 3,56. Che dici? Allora, le risparmio sono a sconto di 70 centesimi rispetto alle ordinarie, quindi primo rischio considerare che in caso di OPA o in caso di conversione possano essere concambiate alla pari. Non esiste da nessuna parte un obbligo di concambiare le azioni alla pari, i concambi possono avvenire ai prezzi di mercato. Dopodiché, anche per un discorso di spessore di scambi, sicuramente la risposta, se deve essere una risposta generica, è assolutamente le ordinarie, perché comunque quando si parla di OPA è chiaro che l'obiettivo sono soprattutto le ordinarie, perché sono quelle con il diritto di voto. Tra l'altro il titolo, vedete, anche lui che razza di impennata, perché dopo la salita di Unipol in Popolare Sondrio, e tra l'altro a questo punto abbiamo la certezza che in autunno diventerà S.P.A., e dopo l'operazione generali cattolica, che è assicurativa e non bancaria, ma che comunque conferma come sul settore finanziario c'è valore nascosto, è chiaro che anche il titolo Banco Desio è un titolo di una possibile futura aggregazione. Per chi lo segue l'acquisto va fatto sulla debolezza, un primo ritracciamento potrebbe arrivare fino sui livelli di quasi un mese fa, cioè in area 3,40 circa. Sono tutti titoli da cercare di comprare sulla debolezza, poi è chiaro che se uno aspetta la debolezza, per esempio sulla Sondrio, ce n'è ben poca di debolezza, un grafico che sale continuamente. In questo caso quando uno ha paura di perdere il treno, perché qui veramente ogni mattina quando arrivi in ufficio e apri le notizie è veramente senza far battute. Uno la prima cosa che va a vedere è se c'è qualche opa, perché adesso è veramente un momento molto caldo. Allora anche sulla forza comunque conviene comprare, non dico in accumulo, ma in più tranche, perché comunque nulla vieta che anche con un settore molto caldo, nulla vieta che tu compri il giorno dopo meno 5. Questo è un rischio di mercato che non si può eliminare. Certamente direi che anche questo è proprio il tipo di banca che in un certo senso le autorità bancarie invitano a fondersi. Poi bisogna vedere cosa ne pensa la banca, però sono proprio queste le banche sul cui futuro c'è un certo pessimismo in termini di, non in termini di solidità, in termini di competitività, soprattutto a Francoforte, soprattutto in BCE. Comunque le operazioni bancarie vanno concordate anche perché devono passare al vaglio di tante autorità, quindi Banca Italia, Banca BCE e quindi sono operazioni sulle quali se c'è il no della preda, non si fanno. Detto questo però il settore è molto interessante. Buongiorno, un'analisi su Enel e Campari, guido da Pisa. Allora Enel l'abbiamo fatto, andiamo invece su Campari. Campari prosegue nel suo recupero, anche lei, questo è proprio un titolo, lo vedete dal grafico, con tutte queste onde, tutti questi swing, questo è un altro titolo da comprare sulla debolezza, anche perché difficilmente ha dei picchi di volatilità verso l'alto, quindi il guadagno lo fai comprando, anche qui può sembrare una cosa banale, non è sempre banale perché certi titoli li compri sul breakout, come per esempio si sarebbe potuto fare su Tods. Questo invece è un titolo che va proprio comprato sulla debolezza, nelle giornate in cui si parla male delle borse, in cui ci sono mille problemi. Campari, soprattutto poi con le riaperture, ha di fronte a sé delle prospettive molto interessanti, quindi c'è un supporto tra i 10,50 e i 10,40, ma potrebbe anche scendere proprio sui 10, se dovesse arrivare uno storno di mercato un pochino più importante, ma sulla debolezza anche forte, questo è un titolo che a me piace, perché io credo che il futuro per questo titolo sia un futuro positivo e quindi è proprio il titolo per coloro che vanno a cercare le azioni che vengono un po' buttate via dal mercato. Perfetto, allora, buongiorno cortesemente, un'analisi su ENAV, grazie Alberto da Bologna che salutiamo. Andiamo su ENAV. ENAV aspettando che ritorni sui 6 e oltre euro che valeva prima della pandemia. Il settore aereo è un settore che ovviamente non è ancora al massimo, ma proprio per questo chi ha veramente un'ottica di lungo periodo a questi prezzi può trovare un titolo interessante, magari può anche chiuderlo a 5 senza aspettare che arrivi a 6. L'obiettivo è di tornare lassù. Può darsi che il settore aereo e il settore dei trasporti in generale, la grossa incognita è come funzionerà lo smart working, quanto ne resterà dopo la pandemia, può darsi che sorprenda un po' in negativo, nel senso che si farà molta più formazione in remoto, si farà più lavoro in remoto e quindi può darsi che il settore aereo ne risenta, però prima della pandemia valeva il titolo 6,30 euro, siamo a 4. Quindi se anche ci diamo un obiettivo ragionevole, anche di non ritorno immediato alla normalità a 5 euro, è un obiettivo che a questi prezzi ha davanti a sé un upside, cioè un potenziale rialzo di un 25%, insomma buttalo via. Buongiorno Emic, Torre da Sassari, è possibile un'analisi su Fincantieri? Andiamo su Fincantieri, al volo che siamo in chiusura. Ma molto rapidamente, sia Leonardo che Fincantieri si buttano anche su settori innovativi per loro, cloud e quant'altro. Guardate che razza di grafico, superata la resistenza a 75, superata anche quella 80, l'obiettivo è tornare a un euro e probabilmente ci arriverà perché oltre alla seconda nave che gli è stata commessa dagli Stati Uniti, commissionata dagli Stati Uniti, ci sono questi nuovi settori innovativi, quindi l'obiettivo è lassù. E allora caro il nostro massimo intropido, ti chiedo la cortesia di rimanere collegato con noi, cediamo la linea alla redazione di Classi NBC per l'aggiornamento news e poi torniamo a rispondere ai nostri telespettatori alla luce di un mercato che in questo momento guadagna lo 0,18% a 25.365, con volumi però bassi, sono diminuiti tantissimo. Ora pausa e torniamo tra poco. Bentornati in seconda parte di Analisi Tecnica, sempre in compagnia di Massimo Intropido. Massimo ci sei sempre? Eccoti qua, allora. Allora, 0,16% di rialzo, 25.360 il nostro derivato. Buongiorno, volevo sapere se era possibile un'analisi di Azimut e Enel, grazie e complimenti per la trasmissione. Enel l'abbiamo fatta, andiamo su Azimut. Sì, in tanti ci chiedono Enel perché sono preoccupati da questa discesa, quindi come dicevo prima, adesso le cose non vanno bene, però non è un titolo di cui mi disferei. Tra l'altro, Emeric, prima nella pausa è uscita la notizia secondo la quale Moody's ci mette tra i paesi europei che faranno probabilmente più fatica nella ripresa post-Covid. Allora, è un'analisi che io non condivido perché, prima si parlava di Draghi, quanto resterà a Palazzo Chigi, se noi riuscissimo a fare un po' di riforme, soprattutto giustizia civile, semplificazioni e quant'altro, l'Italia potrebbe stupire tutti sulla ripresa. Quindi vedi che ancora una volta veniamo messi insieme a Portogallo, Spagna, Grecia, ma il nostro paese se non esprime le risorse che può esprimere, allora sì, il nostro posto è in mezzo a paesi come quelli, ma se questa volta riuscissimo a tirar fuori un po' delle risorse inespresse, credo che torneremmo ad assomigliare, non dico alla Germania, su cui futuro c'è più di un punto di domanda, ma magari saremo un po' più simili alla Francia. Detto questo, andiamo su Azimut, dopo lo stacco del dividendo direi che piano piano cerca di recuperare, quindi non è fragilità, ci sono appunto anche fattori tecnici, 20 Euro sono un supporto, loro continuano a crescere e come raccolta e come acquisizioni, questo può essere un buon momento per cercare di andare a riguadagnare in fretta quell'Euro e passa che il titolo ha perduto, attenzione al supporto dei 20 Euro, questo è il famoso titolo come Stop Loss Free, adesso poi tu dirai ancora no, mettete sempre lo Stop Loss, lo sapevo, ma questo è il titolo che secondo me sulla debolezza va comprato per i dati che abbiamo appena detto, un sacco di liquidità da investire, una raccolta del risparmio gestito che in Italia va a gonfie vele, prospettive di crescita anche all'estero, quindi onestamente se questo scende è perché scende tutto il mercato e questo noi è un pericolo che dobbiamo correre, ma per quanto riguarda la società, chi l'ha comprata sulla debolezza da molto tempo a questa parte ha sempre guadagnato, tranne ovviamente marzo 2020, ma lì è dovuto veramente arrivare una pandemia insomma. Buongiorno, sono Mariella Dabinetto, bellissimo borgo pugliese di 2256 abitanti, così facciamo un po' di turismo Italia, vorrei sapere se Saipem ha questi valori un buon investimento e quali valori potrebbe raggiungere con la ripresa dell'economia della nostra Italia? Più che altro dipende da dove va il petrolio, c'è stato un vertice lampo, sono sempre più strani i vertici dell'OPEC, a volte li rimandano, ieri in 448 hanno fatto tutto, allora si dice che entro luglio dovrebbe finire l'eccesso di scorte, quelle americane sono già precipitate e dentro luglio il mercato del petrolio potrebbe tornare normale, a meno che Stati Uniti ed Iran non trovino l'accordo, non so quanto poi possa essere utile sul nucleare, ma certamente potrebbe essere utile sul petrolio e poi già ci si domanda se sfruttando l'accordo con gli Stati Uniti l'Iran non tornerà sul mercato in maniera aggressiva, quella potrebbe essere la variabile negativa per il prezzo del petrolio, intanto però in questi giorni siamo tornati sui massimi dal 2018 e anche questo è un segnale, tra l'altro prima sono usciti i prezzi da produzione in Europa più 7% su base annua, quindi l'energia sta creando non pochi problemi. Allora questo è lo scenario, quindi è uno scenario che nel breve può essere positivo per il titolo, infatti sta recuperando, qui c'è il gap dei brutti dati che è stato recuperato quasi del tutto, però il prossimo momento critico sarà appunto luglio, quindi è un titolo da trading secondo me più che da investimento, anche se loro stanno cercando di fare nuovi tipi di business sempre nel settore infrastrutture. Allora a livello tecnico resistenza 2,20, 2,18, 2,20 siamo a 2,15 perché chiude il gap e perché comunque 2,20 è un livello che per Saipen potrebbe essere abbastanza difficile da superare. In caso di debolezza supporto 1,95 2 Euro e titolo piuttosto complicato, anche se su questo titolo un trading con una media mobile o con delle trendline ben disegnate, effettivamente io nei miei corsi di trading ogni tanto lo faccio vedere, ci lavoriamo sopra su questo titolo a livello didattico perché è un titolo che comunque non è proprio un titolo per principianti del trading ma per chi sa fare un po' di trading può dare delle soddisfazioni, purché si sappia andare anche a ribasso, perché questo è un titolo che quando c'è qualche problema sul petrolio questo titolo di solito affonda. Buongiorno, un'analisi di OVS in carico a 176 e Saras in carico a 0,69, grazie mille Francesco. OVS l'abbiamo fatta, direi Saras. Allora, Saras, beh c'è la svolta green, quindi raffinare inquinando di meno e titolo che si sta portando veramente sui massimi da più di un anno a questa parte, proprio in linea sul petrolio, loro sono proprio legati al petrolio in maniera importante perché come raffinatori possono diversificare di meno e dipenderà da dove andrà il prezzo del petrolio, quindi titolo molto volatile, non so se è proprio il titolo su cui investire ma su cui fare un po' di trading, magari quando il titolo arriva vicino ai supporti senza romperli e il prossimo supporto verso il basso è in area 0,673, da quelle parti, dovesse tornare da quelle parti con lo stop loss, qui lo stop loss va messo, può dare qualche soddisfazione a livello di trading. Per quanto riguarda invece il futuro strategico del business, credo che la stessa società ci stia lavorando, però per il momento non abbiamo molte informazioni se non per il fatto che anche loro faranno per quanto possibile una svolta green. Buongiorno, si può consigliare un acquisto di poste italiane a 11,75? Allora, poste italiane è un titolo che mi ha più volte stupito perché lo consideravo già un po' caro a 10,50, infatti siamo a 11,76. Va comprato anche qui sulla debolezza, scusate le ripetizioni, però vedete che questo è proprio un titolo che quando lateralizza e ha lateralizzato tra i 10,60 e i 10,80 poi sta fermo per un po'. Quindi quantomeno un ritorno in area 11,30 che consentirebbe poi sulla ripartenza un guadagno potenziale del 3-4%, renderebbe il titolo più interessante. A livello di ripresa futura anche qui ci sono delle possibilità, anche se ormai l'effetto sconto per il futuro è finito, ormai il titolo è apprezzato diciamo fair value, però per quello che dicevo prima a proposito della ripresa italiana potrebbe anche stupire, magari non aspettiamoci grosse cifre, però sai, se anche ci fosse una ripresa più forte del previsto, tanto da costringere gli analisti a cambiare le stime su molti titoli, tra questi titoli potrebbe esserci anche poste italiane, tra quelli che vengono rivisti al meglio. Perfetto, andiamo, salve i mei che potete fare un'analisi su Acea e Farmae, grazie e complimenti, Acea che non vediamo da una vita veramente e Farmae, anche Acea da Farmae è un po' che non vediamo, prego. Acea se non sbaglio non ha riportato affatto dei cattivi risultati, anzi è il titolo è forte, un po' come tutte le utilities, tranne appunto l'eccezione che abbiamo visto prima di IREN, secondo me in maniera ingiustificata. Anche qui titolo che è preferibile comprare sulla debolezza, magari in caso di ritorno in area 20 sarebbe uno storno del 2,5-3%, con poi prospettive legate un po' al futuro anche di quello che sarà il settore utility con tanti cambiamenti tecnologici e quant'altro. Il mercato ci crede e direi che a livello di valutazione vale 16 volte gli utili storici, anche qui la sottovalutazione è finita, è chiaro che con quei risultati positivi si potrebbe aprire spazi di sottovalutazione di un 10-15%, però il titolo ha reagito così bene che non è più a prezzi di saldo. Farmae invece? Farmae è un titolo interessantissimo che aveva avuto delle fiammate non da poco e direi che può essere ancora seguito con attenzione, oggi lo vediamo un po' debole, però oggi come dicevi giustamente tu, seduto interlocutore ha anche pochi volumi, il titolo sta ripartendo, avrà una resistenza a 33 Euro, secondo me li può raggiungere, magari qui stiamo attenti i livelli di mercato perché essendo un titolo minore il mercato può prenderlo in mano, poi lasciarlo, comportarsi in maniera un po' strana. Il grafico però è abbastanza lineare, perciò non è tra i più spessi come titolo, ma non è nemmeno particolarmente sottile, perlomeno per quanto riguarda gli scambi. Capitalizza 172 milioni, non è tantissimo, però passata la soglia dei 100 milioni, di solito le contrattazioni anche a livello di forma di candele giapponesi diventano abbastanza regolari ed è questo il caso di Farmai. Buongiorno Emech e Massimo, una vostra illuminante opinione su Finca e Diasorin, Massimo da Nettuno. Finca l'abbiamo già fatto? Finca l'abbiamo fatto, Diasorin stanno lavorando su nuovi test perché comunque vadano le cose sul Covid e ovviamente tutti speriamo che vadano al meglio nel più breve tempo possibile, c'è stata l'enfasi sulla diagnostica ovviamente del Covid, ma in generale penso che la diagnostica sarà uno dei settori su cui si punterà ancora di più, perché poi è legato alla medicina preventiva e quant'altro. Le scorse settimane eravamo stati, ahimè, facili profetti nel dire che pur avendo comunque un futuro interessante, ma dato il livello di quotazione e dato il fatto che comunque i vaccini sembra che funzionino, il futuro immediato per Diasorin sarebbe stato un po' complicato e così in effetti è successo. Adesso il titolo in fase di ripresa, secondo me questi 150 Euro, anche se li supera, poi rischieranno un po' di riassorbirlo. Va bene per un accumulo molto lento nel tempo, perché poi dopo il Covid, oppure se speriamo di no, dovessero arrivare delle nuove varianti che hanno bisogno di nuovi tipi di test, ma questo veramente speriamo di no, per un po' il titolo potrebbe restare lì e poi magari ripartire su dei temi nuovi, perché comunque tutto il settore della sanità, dalla telemedicina appunto la maggior diagnostica, la stessa oncologia con tutto il lavoro che è stato fatto sui vaccini all'RNA che sfruttano già la tecnologia dell'oncologia, ma che in un certo senso hanno dato anche un contributo tutto il settore medicina, telemedicina, supporto alla sanità, riceverà comunque un impulso. Buongiorno, chiedo un'analisi di Fincantieri, oggi ce lo chiedono tutti i Fincantieri. Allora, buongiorno al dottore Intropido, mi sa dire cosa posso fare con i diritti di Brembo che mi trovo nel dossier, ho tempo fino al 24 per decidere se comprare l'azione a 10.03. Conviene? Quanto gira? Sì, ma conviene, conviene. Il problema è che non mi ricordo quante ce ne siano a disposizione, credo poche. Mi stai chiedendo una cosa se era una domanda. Sì, era legato, era un vecchio diritto di recesso perché c'era stato un cambiamento. Allo statuto, il cambio di statuto, giusto? Sì, 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 credo che si riferisca a quello. Avevo visto la notizia e poi mi è passata… Però è da un po', ma non era finito già… Dovrebbe essere la riofferta di quei diritti. Il problema è che il recesso viene sempre fatto, diritti di opzione sulle azioni oggetto di recesso, sì. Allora, però, vedi, Brembo, il diritto di recesso andava esercitato entro il 14 maggio 21, il prezzo era 10.036, quindi inferiore al prezzo di mercato e non conveniente. Concluso il recesso, ora c'è il diritto di opzione degli azionisti che non hanno esercitato il recesso, sottoscrive nel rapporto di un'azione ogni 19.219 diritti possibile, mi sta segnalando un telespettatore, però il nostro telespettatore, questo è forte Fabrizio, sa tutto. Diritti le pochissime, 16.852 azioni che si sono rese disponibili. Beh, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello 0,00505 del capitale sociale, quindi chi riesce ad averle fa un affare, però se ti danno due azioni… Provate, provate, però dopo il problema è che avete la spezzatura, una volta sarebbe stato controproducente, adesso invece no, una volta sarebbe stata controproducente un'operazione del genere, perché le spezzature le facevano a parte con dei prezzacci e con costi aggiuntivi. Senti, però un'analisi su Brembo possiamo farla, Massimo? Assolutamente sì, Brembo è un po' come Popolare di Milano, cioè vorrebbe tanto fondersi con qualcuno, ma non arrivano proposte di matrimonio, l'ha anche ribadito da poco, se non sbaglio, Bomba 6, non c'è problema nel diluirci, si riferiva ovviamente alla proprietà, però il problema è che Bomba 6 un anno fa, anzi credo addirittura prima del Covid, quindi più di un anno fa, aveva detto che lui voleva fare una fusione, lui, la società, voleva fare una fusione, ma con un grande player e quindi si pensava a Bosch, ai costruttori giapponesi, però bisogna vedere cosa pensa la controparte, quindi in questo momento loro porterebbero un sacco di tecnologia, perché loro sono un player importantissimo, però bisogna vedere cosa ne pensano gli altri e forse a volte quando la fusione è troppo chiamata poi si corre il rischio che dall'altra parte vieni visto come un partner che poi sarebbe troppo forte, quindi siamo in attesa, però certamente tra le novità del settore auto ci saranno anche novità nei freni e nell'elettronica, ricordiamoci che Brembo fa anche un po' di elettronica per il settore automotive. Comunque titolo, sempre meglio comprarlo sulla debolezza 10 euro, avrà una resistenza che tutti possono vedere in area 11,70, però non direi più di questo di analisi tecnica, diciamo che pende una grossa operazione di fusione acquisizione, quindi è un titolo da comprare anche e soprattutto in un'ottica event driven, che vuol dire in parole povere, tra i titoli su cui potrebbe succedere qualcosa di finanza straordinaria. Oggi ti ricordi di fare BPR? Ciao grazie, ma non me l'avevo dimenticato nei giorni scorsi, vabbè comunque BPR, andiamo a fare BPR. Anche perché c'è poco da dire, nel senso che probabilmente le arriverà in sposa a Popolare di Sondrio, ma a questo punto in autunno, visto che dovrà passare in SPA, quindi per il momento c'è poco da dire, tutto tacce, ma il mercato non ci crede tanto che taccia anche su Banco BPM, su BPR c'è da aspettare la prossima mossa, comunque questo è un titolo che resterà caldo anche quando il mercato andrà male, perché il cantiere è partito, poi tutto quello che gira intorno al gruppo BPR, Unipolo, ormai si vede che uno dei fronti bancari è lì, ormai l'hanno capito tutti e non fanno neanche nulla per nasconderlo, quindi è un titolo che magari non salirà tanto, ma penso possa avere una buona resistenza anche nei momenti di debolezza del mercato. Allora, già che ci siamo, guardiamo l'altra promessa sposa, il Banco BPM. Guarda, poi mi chiedono Unipol e se noi facciamo tutta la partita dei rischi a questo punto, anche UCG ha il rischio. Sì, ma se tu sei d'accordo, perché sta arrivando abbastanza in fretta, sui 3 Euro è il Banco BPM. Io sono sempre d'accordo, Banco BPM. Adesso ha una resistenza in area 2,95 che un po' salta, un po' no, ma anche qui la periferia bassa dei 3 Euro è stata raggiunta e tra l'altro anche sui multipli comincia a essere un'operazione non più tanto a sconto, quindi sarebbe un'operazione che si prezza sulle sinergie future. Tra l'altro oggi ti vado sempre fuori tema, perché su Cattolica, poi magari ne parliamo dopo, adesso facciamo Unipol e Unicredit. Su Cattolica il mercato crede già al rilancio, l'ha scritto Milano Finanza, l'hai detto anche tu, però poi ne parliamo anche noi, anche perché avrei qualcosina io da aggiungere. Comunque vediamo Unipol, sì anche qui c'è stata la debolezza, c'era anche un dividendo qui, ma poi il titolo non si è più ripreso, ma comunque Unipol è uno dei binari da cui passa il futuro della finanza italiana. Cibri, zitto zitto, appare poco ma agisce tanto. No, ma loro hanno una strategia, lo si vede da come si muovono, loro hanno una strategia che è una via di mezzo tra la crescita organica, che non è quello che la stessa BCE vuole, e però le grosse operazioni con i grandi tourbillon. Loro hanno questo modello di crescita intermedia che potrebbe dare dei discreti risultati ed è proprio grazie a loro che da un paio di settimane noi cominciamo a parlare di tre polibancari anziché di due col secondo che ovviamente ruoterebbe intorno a Unicredit. E a proposito di Unicredit, vediamo anche Unicredit, c'è stata l'intervista a Padoan del direttore Capini, ovviamente è stato abbottonatissimo, poi Padoan era uno che parlava poco anche quando era ministro. Ma scusi Andrea, gli hai chiesto, ma il risico è rimasto così? Potrebbe scomparire, sarebbe scomparse, no? Sì, gliel'hai fatto subito notare come tuo commento all'intervista. Poi è uscito con una dichiarazione successiva che non ho capito molto bene, la politica fuori dalle banche. Alcuni giornali hanno fatto notare che, detto da un ex ministro, però vedi che anche sul risico bancario, nonostante il palese, non dico imbarazzo, ma la palese attenzione alle parole che ha pronunciato, diciamo così, però vedi che non ha smentito, anche perché non c'era niente da smentire. Un altro fronte che potrebbe un po' nel breve rallentare, soprattutto nei credit, è il discorso dello spezzatino di Banco MPS. Io spero che non si faccia, perché con Banco MPS deve palesemente dare una mano il governo, aumentando se possibile ancora un po' le DTA, perché le DTA, cioè i crediti fiscali. Ma non ci ha perso 750 milioni di euro? Leggevo proprio sul giornale oggi, attraverso Amco. Allora, c'era una giuntina che però è stata sospesa, all'ultimo minuto è uscita dal decreto, perché sembra che il governo ne voglia prima parlare ulteriormente con le autorità europee. E comunque, comunque vadano le cose, BPM e Montepaschi si porteranno in dote comunque un mucchio di soldi in termini di crediti fiscali. Quindi anche lì, settore fermo, ma le cose possono succedere abbastanza in fretta. Parliamo, se vuoi, del possibile rilancio Cattolica? Ma benvenga, assolutamente. Prego, Cattolica. Allora, 6,75 per il momento non ci credono, non basta. È vero che ieri è stato detto che l'operazione va per le lunghe, potrebbe andare su ottobre. Allora, qui c'è da andare a vedere un po' i livelli precedenti, visto che c'è stato rilancione poi alla fine sul Valtellinese, no? Allora, sui livelli pre-Covid il titolo valeva tra i 9 e i 7 euro. Non penso che il rilancio arriverà così in alto, però un 7,20-7,50 almeno è credibile. Perché è vero che loro hanno guardato il premio sulle quotazioni del venerdì precedente, poi la media ponderata degli scambi, però è una media ponderata degli scambi degli ultimi sei mesi che di solito è un punto di riferimento valido, però sono scambi pandemici, cioè è vero che la borsa si è ripresa, ma questo comunque era un titolo che non si era più ripreso dai livelli pandemici, quindi forse è un prezzo quell'offerto che il mercato potrebbe bypassare. Considerando poi che generali, già c'era stato però sui dati, forse è questo che ha messo un po' fretta a generali. Poi erano usciti i dati venerdì di Cattolica incredibili con un salto anche degli indicatori tecnici molto forte, si faceva notare che il confronto era coi dati del primo trimestre 2020 che invece erano stati particolarmente negativi per delle poste straordinarie. Però coi dati che ha dato, scusate il gioco di parole, Cattolica, più la sinergia forte con generali, forse il mercato pensa che generali possa permettersi di pagare un prezzo più alto. Quindi diamo come primo possibile teorico obiettivo di un rialzo tra i 7,20 e i 7,50. Poi io penso che tra un po' arriveranno gli immancabili studi anche sui rilanci e ci daranno magari anche qualche voce che conta di più, ci darà un primo prezzo ragionevole di un possibile rilancio. Per il momento stiamo tra i 7,20 e i 7,50. Ma qualcuno che arriva a rovinare la festa c'è, secondo te? No, perché generali è già dentro col 24,4%, quindi no, no, non credo. Non credo anche perché andare a litigare su Cattolica con già un azionista di peso, direi proprio di no. E tra l'altro... E poi è altro che azionista di peso. Ma poi bisogna fare i conti per Warren Buffett, attenzione, mi piace andare a liquidare un azionista mica da ridere. Tra l'altro Warren Buffett... Ma quant'è che era dentro Buffett? Che se non ricordo male è ancora sotto Buffett rispetto al prezzo d'entrata. Però ha preso i dividendi, infatti era stato fatto il calcolo sui dividendi. Allora, sembra che lui... Aspetta che ti vado a recuperare. Eh, guarda anch'io, guarda. Il prezzo di carico, allora 7,35 euro le ha pagate. 7,35. Poi però ha preso almeno un dividendo di 0,75. Io ho segnato degli appunti, poi non li ho controllati. Comunque 7,35 è un prezzo che ho visto da più parti. E secondo me il prezzo Buffett sarà uno dei possibili target per un potenziale rilancio. Perché comunque Buffett è un azionista che se dovesse esprimere... Di solito lui è molto neutro. Ah, vedi, con i dividendi è pari, mi scrivono i telespedatori. Però c'è una cosa da dire, che Buffett al 9%, allora la Generali vuole delistare la Cattolica, l'ha già dichiarato, perciò deve salire almeno al di sopra del 90% per fare poi l'opera residuale. Sì, però l'opera è valida. A vinto il 9% di Buffett, se dice di no, può andare lo stesso. Sì, però attenzione perché, io poi credo che l'operazione avrà successo, però attenzione perché raggiungimento dei due terzi del capitale, quindi 66,67% o soglia minima, ma con la facoltà di dichiararla comunque valida se si raggiungesse il fatidico 50% più un'azione. Quindi è un'operazione ancora molto aperta, sia in termini di possibili adesioni, sia in termini di possibile rilancio di prezzo. E quello che ha detto il telespettatore conferma anche quello che mi ero segnato io. Col dividendo più o meno dovrebbe essere in pari, però nulla vieta che comunque ci possano essere, possano arrivare sul mercato degli studi, magari da parte di società che pesano a livello di advisory, di indicazione di mercato, che ci danno un'idea un pochino più precisa. Può anche essere sbagliata, però sai in questi casi conta anche molto il peso di chi parla. Vabbè. Vuuu, studia l'ipo delle batterie, interessante la partnership con l'americana QuantumScape, quotata al NICE, probabile punto di ingresso a 14,15. Ti tengo lì perché devo andare in pausa e rispondiamo al nostro telespettatore a rientro. Pausa. Allora Massimo, dobbiamo parlare di VV, Volkswagen, però non riesco tanto a capire se la domanda è su Volkswagen o su QuantumScape. Li facciamo entrambi? Ma Volkswagen farà l'ipo... Ha dichiarato, poi da qua vediamo. Quindi, beh no, ma diciamo che c'è un grosso investimento nel discorso batterie, perché ormai, come dicevamo in precedenza, i tedeschi hanno fatto questa svolta che per loro è costata sangue, perché vuol dire mettere da parte il diesel, che è una tecnologia, in particolare il gruppo Volkswagen, su cui hanno investito negli ultimi 40 anni. Però in pochissimo tempo il mercato è cambiato e adesso anche il tipo di auto che producono sono auto che possono, come dicevamo l'altra volta, anche andare in flotta aziendale, quindi sta facendo sul serio. Il titolo Volkswagen si è ripreso, era finito nelle mire dei redditors, che l'avevano portato 350 euro. Adesso piano piano sta per tornare lassù e ci metterà un po' di tempo, ma penso che ci arriverà. Per quanto riguarda QuantumScape, io non l'ho seguito ultimamente, ma comunque possiamo vederlo abbastanza rapidamente. Fai il ticker, perché non mi, strano, non me lo dà. Io ho un QS, ma... Ah, eccolo qua, QS, QuantumScape Corporation. Perfetto, sì. Questo è quanto... Allora, ecco, anche lì... Allora, purtroppo sui titoli tecnologici c'è stata questa corsa a buttarli via per il discorso inflazione, colpendo anche dei titoli che non centravano proprio nulla con l'inflazione. Vabbè, è un po' la tendenza del momento. QuantumScape ha chiuso un bilancio in perdita ed è poi uno dei motivi per cui, secondo me, il mercato gli ha un po' tolto la fiducia, perché si dice se aumentano i tassi, aumenta il costo del debito, quindi quelli che già non ce la fanno, non ce la faranno definitivamente. C'è un discorso un po' semplicistico. Dipende poi cosa vendono sul mercato e a che prezzi, e soprattutto se hanno il prodotto giusto che gli fa aumentare del 30% il fatturato ogni anno. Cioè è un discorso troppo semplicistico. Il titolo è in questo momento in fase negativa, sotto tutti i punti di vista. Un primo segnale di forza lo darebbe superando prima i 30 e poi i 40 dollari. Non so nemmeno se è un titolo su cui accumulare, perché sono titoli molto particolari e quindi bisogna cercare di seguirli, secondo me, col trading. Mentre i titoli da accumulo sono titoli che, secondo me, hanno già dato altre certezze. Perché l'accumulo ti porta a metterci sempre più soldi nel tempo, quindi devi comprare un asset il cui sottostante abbia dimostrato di avere già una sua solidità. Va bene. Allora, buongiorno, buona festa della Repubblica. I livelli di Biper e UCG non li avete fatti, però. Non li abbiamo fatti? Mi pareva di averli fatti. No, possiamo rivederli al volo. Probabilmente no, ma su Biper c'è poco da dire, perché direi che è talmente ferma, più che altro diamo un livello di stop loss, ma che può anche essere un livello di accumulo, direi 1,95. Perché poi c'è quella debolezza di aprile 1,80, 1,77. Ma lì c'è proprio bisogno di un mercato che vada male. Per quanto riguarda invece UCG alias Unicredit, beh, ci sono i 10, che sono un livello su cui era tornato diverse volte prima di decollare proprio negli ultimi giorni. e poi c'è un 9,70. Però attenzione, questo è un titolo comunque molto volatile. Quindi livelli sì, ma da prendere con una certa prudenza. È un titolo che tende a fare dei trend molto belli in diagonale. Questo è un ottimo titolo da trading, è un titolo su cui mi piace lavorare nei miei corsi di trading e proprio per questo quando un titolo fa dei trend molto inclinati, i livelli statici non sono sempre molto affidabili. E vale il contrario. Quando un titolo è molto preciso sui livelli statici vuol dire che di trend ne fa poco o nulla. Quindi bel titolo da trading e anche da investimento. per l'investimento, per l'ennesima volta, è sempre meglio comprare sulla debolezza in virtù proprio del risico bancario. Quindi sai che è un titolo su cui arriveranno buone notizie. Se lo riesci a comprare quando gli altri te lo regalano un po' è meglio. Buongiorno, vorrei parlare di Fincantiere e Falc. Grazie Marco da Sanremo. FCT l'abbiamo fatto? Sì. Invece Falc no. Falc. Falc Renewables l'abbiamo visto insieme a Erga aver iniziato una tendenza negativa. Il titolo è abbastanza caro sui fondamentali. Adesso cerca un recupero. È importante la tenuta di questi 5,40 euro perché il supporto sotto sarebbe a 5 euro. Però è un vero segnale di forza. È abbastanza lontano per chi ci fa trading perché il titolo dovrebbe almeno superare i 6 euro. Siamo a 5,40. Può essere l'obiettivo addirittura di chiusura di una trade veloce per chi compra in canale laterale. Il problema è che il canale laterale qui è davvero molto sottile perché va da 5,40 a 5,55. Quindi il superamento di 5,55 sarebbe un breakout, cioè una rottura di una zona di congestione per andare almeno a riprendersi i 6 euro. Però se non arriva una notizia particolare con questo tipo di andazzo non lo vedo tanto imminente come breakout. Ciao Emic, puoi chiedere al dottor Intropido i livelli di ingresso su WPM. Simona da Napoli. WPM. Stiamo parlando di America qua, mi sa. WPM. W-P-M. Questo qua è un titolo che ho visto l'altro giorno con i telespettatori e aveva dei dati fondamentali straordinari, caro il mio Intropido. Non so se hai avuto modo di incontrarlo mai nella tua lunghissima carriera di analista. Però credimi, canadese, società che fa basic material, solo. In particolare i precious metals. In particolare i precious metals. Precious metals, sì. Però veramente i dati fondamentali sono spettacolari di questa società. Spettacolari, però abbiamo un price earning già a 38. Eh sì, sì, sì. Però guarda il gross margin. A 54% di gross margin e il profit margin è al 49,3. Zero debiti, cassa. Infatti vedi che il flottante messo a short è solo un 1,32%. Se ne stanno ben alla larga i ribassisti da questo titolo. Vabbè, senti, fammi una WPM al volo che dobbiamo chiudere. Una WPM al volo ha comunque un price earning atteso di 32, quindi rimane caro anche sulle aspettative di andamento societario per il prossimo anno. Però ha degli utili molto altalenanti questa. Attenzione, perché vedo che si triplica, poi si riduce dell'80%. È molto ballerino come titolo. Quindi margini… Sai, quando i titoli sono così, anche tu guardavi le metriche della redditività. Però attenzione, perché poi diventano ballerine anche quelle. Quindi attenzione, è un titolo molto instabile a livello di risultati. Quindi direi che forse è un po' più rischioso di quello che sembra. Forse è un po' più rischioso di quello che sembra. Quindi da comprare sulla debolezza, scusate lo dico per la centesima volta oggi, ma oltre a comprarlo sulla debolezza, state molto attenti ai fondamentali di questa società, perché non è una società… nonostante tutto non lo definirei un titolo difensivo. A me comunque piace. Caro Massimo Intropido, siamo arrivati al termine della nostra lunga trasmissione di analisi tecnica quest'oggi. Come sempre io ti ringrazio per la disponibilità. Oggi eccezionalmente al mercoledì. I nostri telespettatori avranno il piacere di ritrovarti venerdì mattina a Caffa Affari e noi ci rivediamo invece il lunedì per l'analisi tecnica. Ciao Massimo! Volentieri, buona giornata di nuovo, buon 2 giugno a tutti. Arrivederci. Allora signori, arriviamo al termine della nostra fascia training. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi invito, qualora vogliate, dopo le 14.20 abbiamo il nostro approfondimento sul mercato americano in pre-apertura, mentre domani vi anticipo già che variamo leggermente il palinsesto perché abbiamo uno speciale sui mini bond, lo facciamo insieme a quelli di CFM, di interessante perché avremo insomma modo di parlarne approfonditamente di questi prodotti finanziari, lo facciamo dalle 10 alle 11 così preserviamo l'analisi tecnica come da volere dei nostri telespettatori. Detto questo ci vediamo dopo, grazie a tutti e ancora buona festa del 2 giugno!